Bellano, bandiera arancione del Touring Club, si conferma uno dei paesi di maggior richiamo turistico in questa estate lecchese. I numeri sono importanti? Sì, sicuramente, increscendo anche rispetto agli ultimi anni dove già c'è stato il boom, proprio come dicevi te, dall'ottenimento della bandiera arancione e dal grande lavoro di promozione che abbiamo portato avanti per promuovere un turismo legato al territorio, al nostro orrido, ai nostri artisti e al nostro brand Bellano Paesi degli Artisti. I numeri parlano chiaro e il nostro metro sono prima di tutto gli ingressi all'orrido, dove anche per il 2019 si nota un aumento già rispetto al boom del 2018 dove eravamo arrivati a 93.000 visitatori. Nonostante il tempo incerto, perché bisogna dirlo che sia il mese di agosto non è iniziato con il bel tempo e i mesi di aprile e maggio piovosi, nonostante questo i numeri sono in crescita, quindi questo ci riempie di soddisfazione. Anche i dati sulla tassa di soggiorno vedono un aumento del 30% di presenze e lo vediamo anche dai parcheggi a pagamento dove c'è comunque un aumento anche in questo senso. Quindi siamo molto soddisfatti di questa stagione. Noi in questo momento ci troviamo in pieno centro a Bellano, ci sono tantissimi turisti, soprattutto mi sembra dalla parlata tedeschi e inglesi. Sì, esattamente, sono moltissimi stranieri, tedeschi ma non solo, anche olandesi, abbiamo una bella comunità che sta crescendo, ma abbiamo turisti da tutto il mondo, russi, neozelandesi, australiani. Dobbiamo dire che il lago di Como, come leggiamo spesso, è il lago più bello al mondo, o comunque il più conosciuto, si sta riversando il mondo anche sulla nostra versante lecchese, quindi questo ci riempie molto di orgoglio e soddisfazione. Adesso si aspettano i VIP? Speriamo, noi VIP li lasciamo magari al più noto, l'altro ramo, però che noi ci difendiamo, qualche VIP nostrano ogni tanto si fa vedere.